Cari amici del Nuovo Calcio, cari lettori, finalmente ci siamo. Abbiamo la lista completa dei relatori che parteciperanno al Master che ogni anno il Nuovo Calcio organizza, anche quest'anno al Museo del Calcio di Coverciano, in quel di Firenze. Quest'anno ci siamo veramente superati perché i relatori sono tanti. Abbiamo aspettato un pochino di più rispetto al solito per pubblicarlo, ma da oggi potete trovare tutte le informazioni sul sito del Nuovo Calcio e i due Master che si terranno, come sempre, nei due weekend, il primo, il 23 e il 24 giugno, e il secondo, il 30 giugno e il primo luglio, tratteranno di settore giovanile e nel settore giovanile avremo ben 11 relatori e invece nel secondo, 30 giugno e primo luglio, nove relatori per gli adulti. Chi è interessato a partecipare potrà iscriversi da lunedì 23 andando sul sito del Nuovo Calcio www.ilnuovocalcio.it e compilare l'apposita scheda. Vi ricordo che i posti sono limitati, sono 150 per ogni Master.